Sono giorni di cassa integrazione alla Fiat di Termoli per quasi tutti i reparti. Non è ancora terminata che il comitato esecutivo ha già comunicato i prossimi stop produttivi dovuti alla contrazione del mercato in un periodo in cui proprio il settore dell'automobile è attraversato da una serie di cambiamenti e molte vetture a marchio Fiat ne risentono anche a causa dell'ecotassa inserita dal governo 5 Stelle-Lega. L'azienda automobilistica dal canto suo ha annunciato investimenti sul motore ibrido. Le produzioni però ancora non partono. Intanto nello stabilimento di Termoli i reparti del cambio C520 e del motore 16 valvole si fermerà dal 18 aprile al 3 maggio, il cambio C546 dal 23 aprile al 3 maggio mentre il motore T4 e V6 avrà uno stop più lungo dal 18 aprile al 7 maggio. La Wilma ha fatto sapere che tra le organizzazioni sindacali e la direzione di FCA è stata siglata anche un'intesa per l'uscita volontaria dal lavoro di 135 dipendenti, 105 operai e 30 impiegati. L'accordo prevede l'apertura di una procedura di esodo volontario incentivato strutturato in modo tale da consentire ai lavoratori uno scivolo pensionistico attraverso le naspi e l'api aziendale. Abbiamo creato le condizioni per accompagnare i lavoratori all'uscita senza perdite economiche, che hanno commentato dalla segreteria territoriale della Wilma. Siamo ora in attesa della riconversione e dell'avvio dei nuovi prodotti, hanno concluso. Il punto infatti è proprio questo. Finora gli investimenti previsti per Termoli sono rimasti solo annunci.